Ciao ragazzi, bentornati. Vi racconto la storia oggi della cosiddetta Diary Kidder. Questa qui si chiama Alissa Bustamante. Sono sicuro che l'avete già vista, probabilmente però non conoscete la storia. Ha una storiella molto carina di cui parleremo stasera. Vi dico solo che i fatti sono avvenuti nel 2009. Questa ragazza all'epoca aveva 15 anni. Il motivo per cui voglio parlarvi di questa ragazza è che ciò che ha fatto è molto strano. E' specialmente il diario che è stato ritrovato nella sua stanza dopo aver commesso quello che ha commesso, che adesso vedrete. In questo diario sono state trovate delle scritte molto disturbanti. Ragazzi, molto disturbanti. Il 21 ottobre del 2009, la sorella piccola di Alissa, di 6 anni, va a casa dei loro vicini per giocare con lei, Elisabeth Olten. Che all'epoca aveva 9 anni, con la quale giocava molto spesso. Infatti si presenta in quella casa. Cosa succede? Va lì e dice, ciao mamma di Elisabeth, come stai? Voglio giocare con Elisabeth, falla venire a casa mia perché voglio giocare con Elisabeth. E la mamma le dice, no, non la faccio uscire, io sto già per preparare la cena, non mi rompere le palle, tornatene a casa, fatti una vita, non voglio che mia figlia esca. Allora, tutte e due, la piccola sorella di Alissa e Elisabeth, iniziano a fare come fanno i bambini, rompere il c***o. Vi giuro che cercherò di parlare più seriamente da adesso. Comunque, come fanno di solito i bambini, dicono, no, 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 dai, voglio che venga a giocare a casa mia, cosa ti costa, abitiamo qua dietro, facci uscire. Dato che non era la prima volta, loro giocavano spessissimo insieme anche con le altre sorelle e fratelli di entrambe le famiglie. Vabbè, alla fine vanno a casa di Alissa, o meglio, fuori casa di Alissa, iniziano a giocare, a farsi le c***o di loro, eccetera, eccetera. La madre, però, prima di far uscire sua figlia, Elisabeth, quella che state vedendo qui, le dice, va bene, tu vai, ma alle sei di sera, in punto, tu devi tornare qui, altrimenti sono c***o. Essendo ottobre, il sole sarebbe tramontato più o meno verso le sei e mezza. E la madre di Elisabeth sapeva che Elisabeth sarebbe tornata alle sei perché aveva una paura. del buio, quindi non sarebbe rientrata più tardi, per nessun motivo. Cosa succede, però? Le cose non vanno esattamente come si aspettava. Le bambine vanno a casa di Alissa, dove vivono con i nonni di Alissa e la sorella, non con i genitori, poi ci arriveremo, e iniziano a giocare, insomma, a fare le loro cose da bambine, tranquille, tranquille. Dopo un po' di tempo, comunque, che sono lì in casa a giocare, arriva l'ora di tornare a casa. Peccato, però, che non torna nessuno a casa. Quindi, questa povera Elisabeth non tornerà mai a casa. Ricordate che all'epoca aveva nove anni e la madre ha detto che ha una paura tremenda del buio, sarebbe dovuta tornare. Quindi, chiaramente, è successo qualcosa. Quindi, chiaramente, la madre si allarma subito, sin dal primo minuto. Cioè, alle sei e zero uno, la madre è in panico, perché era sicura che sarebbe tornata alle sei. Se non alle sei, prima, ma di sicuro non dopo. Quindi, giustamente, questa povera donna inizia a impanicarsi e fa ciò che farebbe qualsiasi madre, ovviamente. Contatta subito, forse addirittura prima ancora di chiamare i vicini di casa da cui era andata a giocare, chiama la polizia. Non prima, ovviamente, di aver provato a telefonare la figlia, Elisabeth, perché aveva un suo cellulare, Elisabeth. Che però non rispondeva a nessuna chiamata. Quindi, contatta la polizia, dice, mia figlia non è tornata a casa, non è possibile questa cosa. Lei sarebbe dovuta essere qui, per forza. Purtroppo, però, come sapete, in questi casi non si può subito iniziare con le indagini, perché non era sparita da troppo tempo la figlia, anzi, era letteralmente appena sparita. Era una situazione un po' delicata, però la comunità, nel posto in cui vivevano, che era una cittadina di 1400 abitanti, è venuta in soccorso. E subito, il giorno dopo, dalle prime ore del mattino, in centinaia di persone hanno iniziato a cercare nel bosco questa Elisabeth, che si era persa, non si trovava più da nessuna parte. Centinaia di persone non sono riuscite a trovarla in nessun modo. La polizia ha aiutato nelle indagini. A quel punto, le ipotesi erano che fosse stata rapita. Perché, tra l'altro, uno dei testimoni, un testimone, che passava di lì in macchina, ha detto di aver visto una figura di un uomo, probabilmente sulla ventina, ma forse un po' di meno, incappucciato vicino a un guardrail in quella zona lì, intorno all'ora della sparizione di Elisabeth. Quindi subito si è iniziato a pensare che fosse stata rapita, o comunque non fosse più lì. E le speranze di rivederla viva erano sempre, sempre minori. Hanno rintracciato, tra l'altro, è vero, il telefono di Elisabeth, che era appunto questo punto qua nel bosco, molto grande, quindi le ricerche non hanno prodotto molti risultati. Quindi, insomma, è stato abbastanza inutile rintracciare il cellulare. La polizia ha, ovviamente, interrogato l'unica persona che aveva visto Elisabeth, l'ultima persona che aveva visto Elisabeth, ovvero la sorella di Alissa, che aveva solo sei anni all'epoca, e le chiedono, ma cosa avete fatto, cosa è successo, eccetera, eccetera. Questa bambina racconta che, appunto, sono andate a giocare tranquillamente davanti a casa sua, come facevano, tipo, 70.000 volte alla settimana, e quando era arrivata l'ora di andare, è semplicemente andata verso casa sua. Basta. E questa era la versione che ha continuato a dire alle autorità, ed effettivamente era quello che era successo. A un certo punto, però, aggiunge un particolare. Quando la sua amica Elisabeth se n'era andata, lei, giocando, si era incastrata, non ho capito bene dove, al che ha urlato, cercando aiuto, cercando qualcuno che potesse aiutarla a sbloccarsi. Chi è venuta in suo soccorso? La sorella Alissa. La sorella Alissa è uscita da casa, ha aiutato sua sorellina piccola a liberarsi, e fin qui tutto bene. A questo punto, allora, gli agenti decidono di interrogare, ovviamente, anche Alissa. E, ragazzi, vi faccio vedere. Questo qui è l'interrogatorio di Alissa. Questa qui è Alissa che viene interrogata, che sembra tranquilla, risponde alle domande che le vengono fatte, dice ciò che è successo, secondo la sua versione, e, più precisamente, racconta semplicemente che, al momento in cui Elisabeth era scomparsa, lei era in casa. Non sapeva molto, in realtà, sul caso, perché era andata nel bosco, intorno alle 4 e mezza, 5 di pomeriggio, a fare una passeggiata, per poi tornare e stare tranquillamente in camera sua, per poi uscire solo una volta sentite le urla della sorella, che si era incastrata da qualche parte. Però, non aveva visto nessuno, non aveva visto niente di strano, quindi questa è la sua versione. Quello che non sapeva Alissa, durante questo interrogatorio, è che la polizia, tutti quelli che stavano facendo le indagini, avevano già, anche, esaminato, perquisito casa sua. In casa sua, più precisamente in camera sua, hanno trovato delle cose non molto carine, avevano trovato delle scritte sul muro, tipo questa, è stato scritto col sangue. Strano, ok? Molto strano. Poi questo, questa strana sagoma con scritto Emma, e questa scritta qua, che è una specie di poesia che parla dell'autolimismo. Quindi, a questo punto, c'erano molte cose strane, che stavano man mano venendo fuori. Si scopre che, uno, Alissa è fidanzata, due, si t***a, e parla spesso di volersi t***a la vita, di quanto le piaccia fare del male, farsi del male in generale. Insomma, parla molto spesso di fatti macabri, che non ti aspetteresti di sentire da una ragazzina di 15 anni. E, in queste frasi scritte nel muro, c'era anche del sangue vero, appartenente ad Alissa. Una cosa allucinante, detta poi da lei, che è l'ex migliore amica di Alissa, è che durante il quindicesimo compleanno di Alissa, appunto, ha fatto una rivelazione scioccante proprio a lei, alla sua migliore amica. E le ha detto, sai, mi piacerebbe uscire qualcuno solo per vedere che cosa si prova. Questo ha detto. Adesso, per capire che cosa passa per la testa a questa ragazzina di nome Alissa, ho pensato di raccontarvi brevemente che cosa è passato nella sua vita. Allora, lei è nata da una gravidanza in adolescenza, infatti sua madre l'ha partorita quando aveva, guarda caso, 15 anni. Peccato però che sua madre e suo padre non erano in grado di fare i genitori. Infatti, il padre, dopo aver dato vita ad altri fratelli e sorelle, viene arrestato, quindi praticamente Alissa non lo conosce nemmeno, e la madre ha dei seri problemi di alcolismo e altre cose. Quindi vive una vita, insomma, non molto felice nei suoi primi anni di vita, fino agli otto anni più precisamente. A otto anni, finalmente, i nonni riescono a prendere la custodia di Alissa e dei suoi fratelli, e finalmente per la prima volta inizia a vivere in un ambiente in cui non le manca niente, stabile, eccetera, eccetera. Però diciamo che era troppo tardi, perché questa bambina aveva già visto cose che nessun bambino dovrebbe vedere. Era già stata sottoposta a vari episodi di stress mentale e shock assurdi. Se non sbaglio, le venne anche diagnosticato il disturbo post-traumatico da stress. Ma comunque, questa è la sua storia, la sua vita, questo qua è il padre che venne arrestato, fino ad arrivare, appunto, al momento in cui dice al suo quindicesimo compleanno, alla sua migliore amica, voglio provare a ucc... per vedere cosa si prova. L'FBI, la polizia e chi ne ha più ne metta fa le loro indagini, e scoprono nella sua stanza, oltre a tutte queste cose molto macabre, scopre anche un diario. Un diario che è questo qua, esattamente, ed è il motivo per cui viene chiamata The Diary Killer. E nell'ultima pagina c'era appunto questo... questa scritta, poi stata cancellata in seguito con una penna, stata tutta cancellata tranne l'ultima frase, in cui c'era scritto Dovrò andare in chiesa adesso, lol. Durante l'interrogatorio, lei non sa che gli agenti hanno già trovato il suo diario, e non sa che sono anche riusciti a leggere quello che lei aveva cancellato. Vi faccio solo vedere... questa signora che vedete qua, in basso, è la nonna, ovvero tutore legale di Alissa. Vi faccio solo vedere la sua reazione quando gli agenti dicono ad Alissa Guarda, noi abbiamo letto il diario, abbiamo letto cosa è scritto, spiegaci un po'. Questa è la reazione della nonna, quando Alissa dice Ah, ok, ho fatto quello che ho fatto. Ha urlato, non sarà mai ok, non andrà mai bene. Allora, hanno fatto tutti gli esami, così, con sta roba, che non so neanche come si chiama, questa roba qua, che ha rivelato ciò che c'era scritto sotto, prima di essere cancellato. Nel diario, c'erano scritte le parole. Ho appena ucciso qualcuno, cazzo. L'ho strangolato e le ho... E... Pugnato. È stato stupendo. È abbastanza... Enjoyable. Divertente. Devo andare in chiesa adesso, lol. Questo era quello che hanno trovato nel diario, quindi... Evidentemente avevano trovato un colpevole. Come vi ho detto, quello che ha scritto è abbastanza disturbante, cioè, l'ha scritto come se fosse... Boh, raga, sono andato a prendere il gelato, è stato figo, eh, ho conosciuto tizio... Uguale. A questo punto era chiaro che la persona che stavano cercando era Alissa, e l'interrogatorio è stato più una sorta di modo per farla confessare, anche se aveva già confessato con questo diario. Gli investigatori hanno preso Alissa e le hanno detto, ok, portaci dal corpo. E subito Alissa, senza esitare, li ha portati nel luogo esatto. In mezzo al bosco, ragazzi. Ricordo che è in mezzo al bosco. Lei subito è riuscita ad arrivare al posto in cui aveva lasciato il corpo, e praticamente era in una fossa scavata da lei stessa cinque giorni prima di commettere lo video. Quindi, era una cosa assolutamente, totalmente premeditata. Niente, quindi, appunto, hanno trovato il corpo della povera Elisabeth, che era stata uccisa da Alissa. Adesso, Alissa ha ucciso, effettivamente, solo ed esclusivamente per capire che cosa si provava ad uccidere. Le è piaciuto, quindi. Per fortuna è stata trovata in quel momento lì, qualche giorno dopo, forse tre giorni dopo, se non sbaglio. Tre giorni dopo la scomparsa di Elisabeth. E è stata condannata all'ergastolo senza possibilità di parola, 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 senza condizionale. No, scherzavo. Con la possibilità di condizionale nel 2024. Più una sentenza consecutiva di 30 anni di prigione. Quello che è successo è che Alissa, in realtà, è uscita fuori di casa, sapendo che Elisabeth era lì, perché aveva chiesto alla sua sorella piccola di andare a prenderla a casa. Quindi non è che la sorella piccola è andata lì perché voleva giocare con Elisabeth. C'è andata perché Alissa le ha detto di farlo e di portare Elisabeth lì. Poco dopo che sono arrivate a casa di Alissa, Alissa ha preso per la mano Elisabeth, l'ha accompagnata nel bosco, tanto dentro il bosco, almeno 15 minuti di camminata. Durante tutti i 15 minuti Alissa sapeva quello che stava per fare. Avrebbe potuto ripensarci e non farlo, ma l'ha fatto comunque. Cioè, ha avuto tempo per pensare a quello che stava per fare. È stata proprio una cosa studiata nel minimo dettaglio. E la cosa inquietante di questa storia è che realmente l'unico motivo, il solo e unico motivo, era sapere che cosa si prova ad uccidere. Io sono sconcertato, non so voi. Ok ragazzi, io spero che questa live vi sia piaciuta, che vi abbia un po' scandalizzati, perché alla fine questo è l'obiettivo. Comunque, grazie a tutti quanti. Spero davvero che sia stata una bella live. Spero di avervi tenuto compagnia. Ciao!